Doveva essere il messaggio agli studenti per omaggiare le vittime della grande guerra e le forze armate nel giorno del 4 novembre. Ne è risultato una burrasca di critiche e dure prese di posizione contro Marco Ugo Filisetti, il direttore dell'ufficio scolastico delle Marche, accusato di chiamata alle armi con retorica fascista, secondo le interpretazioni. L'ultima, in ordine di tempo, è dell'onorevole di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni, vicepresidente della Commissione Cultura Montecitorio, che evidenzia una certa somiglianza addirittura col discorso di Benito Mussolini, 23 gennaio del 19 a Milano, quando nacquero i fasci di combattimento. Porremo l'esigenza, detto, di rimuoverlo al più presto da quell'incarico e provvedere al suo licenziamento. Nelle parole che abbiamo scritto non c'è nulla di questo. Chi le ha interpretate in quel modo mi sembra che le abbia interpretate in modo fuorviante. Una gioventù che andò al fronte e la vi rimase, aveva scritto Filisetti nella lettera agli studenti, ormai diventata virale e agli onori della cronaca nazionale. Una gioventù lontana dai prudenti, dai pavidi, coloro che scendono in strada cose fatte per dire io c'ero. Poi una citazione di Giovanni Gentile, tra i firmatari del manifesto degli intellettuali fascisti. E infine, per questo ricordando i loro nomi, sentiamo rispondere, come nelle trincea l'appello serale del comandante, presente. Le parole virgolettate, senza richiamare tra l'altro l'autore, volutamente, proprio per evitare che ci si concentrasse sull'autore invece che sulle parole, sono parole assolutamente che esprimono in modo sintetico e ovviamente da pari di un grande filosofo, come ovviamente tutti quanti riconosciamo Gentile e quindi mi sembra che siano state utili nel contesto specifico. Profondo sconcerto, viene espresso dai sindacati, per l'antistorica retorica bellicistica che tradisce lo spirito della nostra Costituzione e contoni, che rasentano l'apologia del fascismo. Il garante dei diritti delle Marche, Andrea Nobili, suggerisce a Filisetti la lettura di un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, per non dimenticare l'idiozia e la brutalità della guerra. Indignazione dall'Ampi, l'ex segretario della FIM CISL Marco Bentivoglia ha segnalato la lettera alla ministra Azzolina, per la quale sono già pronte tre interrogazioni parlamentari da parte degli onorevoli PD, Verducci e Morgoni e di Liberi e Uguali Fratoianni. Giustamente i parlamentari hanno tutto il diritto di interrogare il ministro e il governo per chiedere spiegazioni laddove ritengono che quello che è scritto, detto o fatto, successo meriti di spiegazioni e quindi daremo, se così sarà, daremo le spiegazioni.